Salve a tutti ragazzi, bentornati da Francesco Chiaia Vi ricordate lo scorso video dove vi ho messo il link, cioè il video che ho fatto per la room di tutti i miei giochi Beh, questo video vi vorrei far proprio vedere, proprio parlando a voce E vi ho messo anche la webcam, così potete vedere, cioè proprio mi potete vedere dal video Beh, è sempre in descrizione, vi metterò il link con tutti i giochi e bla 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 Allora, vi... vediamo, devo solo vedere una cosa Loading, sì, vai, loading Chiudiamo qua No, 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 ok Quindi, se per sbaglio vi ho messo un video Aspettate che vi faccio dire come non ho detto Allora, se avrei messo un... O se avessi messo, non so, il verbo Il... un... un po... cioè un download con scritto Pokenect, tra parentesi quadra La servirebbe una password Però, siccome non ce l'ho Cioè, per trasportare Scusatevi che il mio abatto sta facendo pazza, ok Per... Aspettate tre secondi Ok, si è imparato il computer Scusatemi per questo fatto Ok, ecco Voilà Su, dai Ok, scusatemi Se... vale Cioè, se è successo questa cosa, non so perché Un po' No, niente Nuova combinazione Nuova combinazione color Ah, mi hanno aggiornato il computer Buon, 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 buon Buon Muchos buenos Allora, vediamo se sta registrando ancora Si Si Allora, se sta scritto Po Tra parentesi quadra Pokenet Ehm E basta La, per postarla sul desktop Vi servirebbe una password Oppure per farla partire Io, siccome non so L'ho messo in download Dove sta scritto 1282.zip Sarebbe pokemon diamante Almeno, credo, diamante Poi, mi metterò in descrizione il link Ehm, un download Chi l'ha fatto? Io sul, forse Vediamo Chi l'ha fatto? Non so se si può vedere Eh, comunque Pokemon Nero a2 Non so se è questo Oppure il pokemon bianco normale C'è bisogno della Cioè Aspettate per me Sta registrando Si Ecco No, non è questo Oh Dovrete indovinare Ehm Cioè Voi Avete Ehm Avete presente Ehm Come si chiama? Dove fate un download Vi serve Dovete Ci sono delle parole strane Dove dovete Criptarla all'incirca Beh, dovete fare quello Non so quale Non so quale tra questi Download Se no a2m11 so No? Vabbù Ci siamo capiti Dovete indovinare la Come si chiama La password Cioè Iiii Vabbù Quello che Spero di esservi stato utile E' 4 minuti Cioè Facciamo Spero di esservi stato utile Proprio ora Ho aumentato un po' il volume Ma non credo che servirebbe Beh Questo è tutto Ciao da Francesco Chiaia